Nome e di cosa ti occupi? Elisa Macchioni, io sono responsabile marketing in SimrTech Perché hai deciso di partecipare al nostro evento? Perché ho seguito per un qualche periodo i webinar e le newsletter che periodicamente mandate mi sono trovata molto bene, con spunti utili e abbastanza interessanti per la mia quotidianità lavorativa che non è sempre facile nel B2B Ti chiedo anche quali sono i contenuti che hai trovato più interessanti, più utili appunto per la tua esperienza lavorativa? Come siete riusciti ad affrontare la tematica comunque della strategia nel marketing che è sempre molto difficile, abbracciando comunque tanti settori e anche io devo dire che mi sono ritrovata molto molto bene nei passaggi che avete elencato perché secondo me sono passaggi chiave che insomma anche la mia azienda o comunque insomma tante altre dovrebbero o potrebbero fare Quindi consiglieresti di partecipare? Sì consiglierei di partecipare Grazie a tutti Un'altra 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 Grazie a tutti.